Uomini e donne, anticipazioni 17 aprile, volta pagina, Paola scatena il caos. L'appuntamento con Uomini e donne torna in onda lunedì 17 aprile con la nuova puntata che aprirà la settimana di programmazione del talk show pomeridiano di Maria De Filippi. Al centro dell'attenzione ci saranno ancora una volta le vicende di Gemma che si troverà al centro delle dinamiche in studio. Complice la sua scelta di gettarsi a capofitto in una nuova frequentazione. Spazio anche alle novità legate al percorso della dama Paola che, questa volta, si ritroverà al centro di accesissime polemiche in studio. Nel dettaglio, le anticipazioni sulla nuova puntata di Uomini e donne del 17 aprile rivelano che al centro dell'attenzione torneranno le vicende di Gemma. Dato che la dama torinese si ritroverà ancora una volta a voler voltare pagina assieme ad un altro pretendente. Trattasi di Elio, una new entry nel cast del Tronover che sembrerà aver fatto breccia nel cuore della dama torinese. Al punto da decidere di voler approfondire la conoscenza con lui anche fuori dallo studio del talk show pomeridiano di Canale 5. Un nuovo inizio per Gemma che, ad oggi, non era ancora riuscita a lasciarsi alle spalle la fine della sua frequentazione con Silvio. Il cavaliere col quale sembrava stesse nascendo un feeling speciale. E poi ancora, al centro di questa nuova puntata di Uomini e donne che sarà trasmessa il 17 aprile, ci saranno anche le vicende di Paula. La dama, infatti, comunicherà la sua decisione di voler chiudere la frequentazione con il nuovo cavaliere che aveva contattato la redazione per conoscerlo. Una scelta che ha scatenato subito l'ira di Gianni Spertiche, in trasmissione. Ha duramente criticato la dama, scatenando il caos. Anche Armando si è scagliato contro le scelte di Paula e, a quel punto, la reazione della dama non è stata per niente positiva, tra i due. Infatti, ci sono stati momenti di tensione in studio. Si apre così la nuova settimana di messa in onda del talk show pomeridiano di Maria De Filippiche. In queste settimane, ha confermato la sua forza sul pubblico della TV generalista. Conquistando una media di quasi 3 milioni di spettatori al giorno e picchi che hanno raggiunto anche il 40% sul target commerciale. Un trionfo clamoroso per la trasmissione del pomeriggio di Canale 5 che, ancora una volta, conferma la sua forza sul pubblico del pomeriggio, riuscendo così ad avere la meglio contro tutti gli avversari e i diretti competitori in onda nella stessa fascia oraria sulla rete Rai. Grazie. 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 Grazie a tutti.